sono runner milanesi oggi siamo tornati alla base nostra amata odiata milano montagnetti di san siro ovviamente come vedete qualcuno che si va a correre sempre è pieno di persone sola si il panorama non è proprio bellissimo chissà contenta c'è la centrale termonucleare globale ma noi adesso tenteremo dopo i dieci chilometri soft molto soft di fare la nostra bella cima e salutare milano dall'alto vediamo se sarà noiosissimo il filmato o no parlo dopo perché sono un po' una schiappa potrei crepare prima salita questa è la seconda ok salitina eccoci quella ultimo strapetto ce l'abbiamo sempre fatta no che bellezza ma questa lontra non c'è vedi almeno una cosa l'abbiamo trovata adesso tra un po' acceleriamo un attimo facciamo sentire una pirla via ciao ciao fantastico c'è anche della fauna selvaggia eccoci eccoci fantastico buon sabato a tutti eccoci c'è ancora laités Grazie.